Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come ogni venerdì, andiamo a parlare di DM Panel. Oggi, più nello specifico, vi andrò a mostrare come andare a creare una vignettatura all'interno di Photoshop. E lo faremo proprio grazie a questo stupendo pannello. Per andare a trovare la nostra iconcina che ci permetterà di andare a creare la vignettatura, ci basterà andare all'interno del pannello, andare a cliccare sulla freccetta qui in alto e poi premere su Vignette. Non fatevi spaventare ora se vi compaiono i valori tonali, perché sono appunto lo strumento che ci permetterà di andare a regolare la maschera di livello che vedete qui a destra, connessa appunto a questo livello nero, e che appunto ci consentirà di andare a regolare le porzioni in cui andare a inserire questa vignettatura. Quindi, in sostanza, è una cosa concettualmente molto simile a quello che avviene in Lightroom o Camera Raw, però è ancora più precisa e la possiamo andare a localizzare solo in determinate zone. Quindi, innanzitutto, vediamo cosa fanno i singoli pulsanti, quindi i singoli slider. E vi consiglio anche di guardare, mentre vado a operare sugli slider, anche di guardare come si modifica la maschera di livello qui accanto, perché è veramente molto importante. Partendo un secondo dalla parte bassa, quindi dai valori tonali in output, vi posso dire che quello più importante è quello del bianco, perché è quello che ci va in pratica a regolare la potenza della vignettatura. Infatti, vi faccio vedere, se lo porto magari a 140, potete vedere che i bianchi di questa maschera di livello sono molto meno bianchi, di conseguenza avrò una selezione meno forte. Ovviamente, se invece lo porto a 255, il massimo, vedete che la foto diventa molto più scura, questo perché ho la selezione tutta quanta bianca e quindi il nero applicato al 100%. Lo slider del nero, invece, possiamo considerarlo in sostanza come se fosse la sfumatura all'interno di Lightroom o di Camera Raw. Infatti, se notate, se io vado a valori molto molto alti del nero, vedete che la maschera è quasi completamente bianca. Mentre invece, se lo porto a valori più bassi, quindi verso lo zero, vedete che cominciano a comparire delle porzioni più scure e chiaramente se lo porto a zero, avrò una maschera molto rigida, molto dura e poco sfumata. Quindi, anche qui, chiaramente dipende dalla foto che andate a sviluppare. Io, in questo caso, voglio mantenere una leggera sfumatura, quindi lo porto intorno a un 50, quindi comunque è una maschera già un pochino meno dura. Inoltre, non voglio nemmeno avere un nero troppo evidente che va a chiudere troppo le ombre. Perfetto, quindi diciamo che lo porto a un 200 e possiamo già vedere l'anteprima di quello che abbiamo fatto andando a modificare quella maschera di livello. Per concludere, vediamo invece cosa fanno i valori tonali in Input. Quindi, fondamentalmente, se io porto a zero il nero, stessa identica cosa di prima, mi va, in sostanza, a creare una maschera più o meno contrastata. A valori bassi di zero, chiaramente, avrò una maschera un pochino più sfumata, questa volta, mentre invece, al contrario, se vado ad alzare i valori del nero, avrò una selezione un pochino più marcata. Inoltre, poi, mi posso anche aiutare con lo slider dei mezzi toni per andare a togliere potenza e quindi andare a sfumare maggiormente la vignetatura. E diciamo che, in questo caso, io voglio fermarmi in questa posizione. Lo slider del bianco, invece, per concludere, in sostanza, va a aumentare il bianco nelle zone già chiare all'interno della selezione. Però, diciamo che, in questo caso, io lo lascio a 255. Quindi, poi, una volta terminato il lavoro con i valori tonali, premiamo su OK e, come vedete, quindi abbiamo il nostro livello con la vignetatura collocata. Quindi, ora, per far sì che questa vignetatura non risulti troppo marcata, ne portiamo l'opacità a un 50%, in modo quindi da averla, da averla presente, ma, chiaramente, in modo che non vada nemmeno a scurire troppo le ombre e, quindi, che le vada a bruciare. Per cui, spero che anche questo video vi sia piaciuto e vi sia interessato. Dalla settimana prossima, credo proprio che prenderò una pausa in attesa, poi, di nuovi video sul TM Panel, perché ne ho già fatti tanti, quindi, ora, aspetterò eventuali novità anche da parte di Gaspare. Mi raccomando, fatemi sapere se avete dei dubbi, delle domande o delle richieste. Io sono sempre a disposizione per rispondervi, quindi, mi raccomando, se avete delle cose, chiedetemele pure o qui sotto nei commenti o anche in privato su Facebook. Noi, come sempre, ci vediamo con un nuovo video il martedì alle 9 su questo canale. Ciao! Ciao!